Si vedeva dall'inizio che la sofferenza maggiore era proprio sugli attacchi centrali. Non sono stati mai capaci di chiudere in maniera efficace in quella zona del campo e alla fine hanno perso la partita. È finito il tempo a nostra disposizione. Un grazie a Luca per avermi affiancato nella telecronaca. Grazie a te Fabio. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.